In questi casi deve essere fornita agli organi di polizia opportuna autocertificazione, che sarà controllata per individuare e sanzionare le dichiarazioni false. Sono aperte tutte le attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità. Sono garantiti i servizi bancari e postali. I cittadini sono invitati a rispettare l'obbligo di restare in casa. Si ricorda che è vietato spostarsi anche all'interno del territorio cittadino, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute o per particolari necessità. In questi casi deve essere fornita agli organi di polizia opportuna autocertificazione.